Si chiama il salvagente ed è un nuovo strumento della cof consumatori a tutela del cittadino. Viene istituito a Sulmona nella sede dell'associazione in via Enrico Gianmarco. È possibile rivolgersi per ogni problematica inerente alla sfera dei diritti del cittadino. Il servizio va ad integrare il lavoro svolto finora, che fa registrare la media annuale di 900 persone che si rivolgono alla cof consumatori. Dalle enormi esigenze dei cittadini nasce proprio la necessità di allargare il servizio grazie alla presenza di 10 professionisti tra architetti, ingegneri e geometri, 8 avvocati, 2 amministrativi, tra cui l'ex subcommissario prefettizio ed ex difensore civico regionale Giovanni Masciocchi ed un sociologo. Il nuovo servizio è stato presentato dal presidente regionale di Conf Consumatori, Domenico Taglieri, che ha detto il salvagente sarà la sentinella al servizio del cittadino per la corretta applicazione delle norme. In questo momento particolare, che è un momento duro, grave, nel quale il cittadino ha bisogno di tutto. Per non mettere ostacoli, per non creare al cittadino nessun disappunto, abbiamo pensato questa sigla il salvagente. Nella sigla si dice tutto praticamente, salvagente, quindi significa che per qualsiasi iniziativa, per qualsiasi problema, per qualsiasi cosa della quale il cittadino è afflitto, può rivolgersi alla Conf Consumatori, nella quale Conf Consumatori trova anche questo settore che si chiama il salvagente. Servizio gratuito, però è possibile anche fare una tessera? Sì, praticamente la tessera dà anche la possibilità di avere altri servizi, è comunque un modo di partecipazione alle spese. Io penso che una tessera di 30 euro è una cosa di ordinarissima amministrazione, quello di trovare un avvocato, un ingegnere, un geometra, un sociologo a disposizione è una cosa veramente irrisoria, il costo. A il salvagente possono essere segnalate questioni personali ed anche quelle nelle quali vengono ravvisate illegalità o irregolarità. Siete pronti a risolvere tutti i casi possibili, anche con l'eventualità di procedere ad azioni legali? Senza meno. Noi per esempio ci troviamo di fronte a ritardi forti nelle risposte che vengono date al cittadino da parte della pubblica amministrazione. In questi casi non ci fermeremo soltanto alla lettera o soltanto alla enunciazione del fatto, ma andremo fino in fondo perché il cittadino ha diritto di essere rispettato, ha diritto di avere una risposta, ha diritto di aver soddisfatto il proprio bisogno. L'iniziativa potrà essere attivata anche nei comuni che intendano aderire al progetto perché una legge nazionale, ha spiegato Taglieri, consente di essere presenti anche nelle municipalità. Il servizio sarà fruibile nella sede di Conf Consumatori 5 giorni alla settimana, lunedì, martedì e giovedì, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, mercoledì e venerdì, solo il pomeriggio. Il recapito telefonico è 0864 50 165, presto verrà attivato anche un numero di cellulare per le emergenze.